Fratelli d'Italia appoggerà tre dei quesiti referendari, quello sulla elezione dei componenti del CSM, quello sulla separazione delle carriere e infine quello della presenza di componenti laici all'interno dei consigli giudiziari. Noi riteniamo che la riforma cartabia che abbiamo discusso in aula non sia una vera riforma perché non modifica in maniera sostanziale il sistema giudiziario che invece va finalmente riformato perché di questo l'Italia ha necessità. Bisogna evitare che ci sia un contatto diretto e troppo forte fra magistratura e politica e che all'interno della magistratura continuino ancora a avere la meglio le correnti. Proprio per questo motivo noi chiediamo, e in questo senso il quesito referendario, che ci sia una estrazione assorte. importantissima la partecipazione dei laici all'interno del CSM, così come fondamentale è la separazione delle carriere. La cartabia ha detto di averla fatta, questo ovviamente non è vero perché dal testo la separazione non si evince. Separazione delle carriere vuol dire due concorsi diversi, carriere diverse e due CSM diversi.